Il percorso di questo video, ci saranno due pattente, la prima... ...corsino a raggiungere quella boa di colore giallo è la boa di pirata, si tiene quella boa alla propria sinistra e si inizia a nuotare verso Vattori, le cuffie verde, cortesemente la gara della federazione viene cortesemente perché sennò quelli che arrivano prima non fanno nulla per nulla perché viene annullata la gara. ...dia abbassando la bandiera e con il colore... ...dia abbassando la bandiera e con il colore... ...dia abbassando la bandiera... ...dia abbassando la bandiera... ...dia abbassando il coloreo... quindi divo imprimo... Grazie a tutti. 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 Tra qualche minuto, dopo gli agonisti, partiranno i master. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 gli amatori. a tutti. 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 e allora ha risvegliato i miei distinti mascolini. a tutti. e un'altra mente sviluppava il testosterone e io ho cercato di prenderla. inutilmente. non ci sono riuscito. Peccato. Peccato. La tua gara in Gilleri. Una partita bella tranquilla in mare la contro e poi invece ritorno a tutto il cimolente nel mare tutti in giro. Complimenti. All'inizio tutto contro corrente e anche contro il vento. A ritorno da tutto favore. Ci viaggiava che era una meraviglia. Penso di aver fatto un buon tempo. L'importante è avere un ottimo sorriso, ragazzi. No, 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 non voglio rilasciare dichiarazioni in piccola. Hai accusato, questo va sull'inturro. Non me l'ha identificata. Menava a destra a manca. Però l'ho lasciata indietro, mi pareggio. Ok. Poi che devo dire. È stata un'ottima gara. Mi è perso. Complimenti. E c'era Cia. Si mi è aperta di una manca. E va a tenerla lì. E va a tenerla lì. E va a tenerla lì. E vamos, la manca. E mi ha detto, ne ma no. In questo momento a metà un giorno, ma no. Ok. Perché la mamca. Ed è vaca, non. È vaca. C'è la manca. Non c'è la manca. No, no.